Allora, come diciamo essere sempre molto attivi, creativi, propositivi, coinvolgendo anche personalità del mondo dell'architettura come Mario Cucinella, però diciamo una scuola che vuole toccare con mano sempre ai ragazzi quello che devono fare, studiare, conoscere? Noi vogliamo far capire ai ragazzi che la realtà non è solo il Covid e che occorre saper guardare avanti. E per questo anche nel corso di quest'anno scolastico abbiamo fatto un progetto con lo studio dell'architetto Mario Cucinella che già da anni collabora con noi su questi progetti didattici e la sua idea è stata meravigliosa, sfidare i ragazzi sulla possibilità di abitare lo spazio. Quindi loro hanno fatto dei progetti che sono diventati delle installazioni che adesso abbiamo allestito nel cortile della scuola e l'architetto Mario Cucinella poi farà una lezione magistrale sul tema dell'abitare lo spazio per tutti gli studenti del triennio. Ovviamente questa parte poi verrà fatta a distanza, però cerchiamo in tutti i modi di far capire ai ragazzi che la vita va avanti, che è importante imparare, che è importante ispirarsi a persone come Mario Cucinella, persone che hanno una grandissima capacità di visione e di pensiero sulla realtà. I ragazzi direi che hanno risposto alla grande, hanno capito che si può abitare e si deve abitare anche lo spazio. Sì, hanno risposto in modo imprevedibile come sempre. I nostri ragazzi fanno il liceo, il liceo scientifico delle scienze applicate, il liceo linguistico, o il liceo quadriennale e nonostante facciano un liceo sono riusciti a far diventare dei progetti esecutivi idee che potevano sembrare idee lontane. Forse questa è una cosa che dobbiamo imparare anche noi adulti, cioè capire come delle idee possono diventare progetti esecutivi capaci di cambiare la realtà. Mario Cucinella, allora qui ci portano sullo spazio questi ragazzi del Malpighi. Beh, è un viaggio che rappresenta un po' l'ambizione che abbiamo avuto sempre come esseri umani di scoprire quello che non conoscevamo, dalle grandi avventure della terra che ormai conosciamo adesso non ci rimane che affrontare lo spazio e questo mi sembra un bel esercizio di immaginazione, quindi mi sembra un po' quello spirito ancestrale di viaggiare nello spazio e nel tempo, qui siamo andati oltre, però insomma è nella natura dell'uomo questo. Qual è il giudizio come architetto? Hanno lavorato bene, hanno impostato bene il lavoro? Sono molto invidioso di questa creatività, perché poi un professionista sempre confrontato con una realtà che lo mette in difficoltà, invece loro sono riusciti a viaggiare veramente nel tempo e nello spazio, quindi mi sembra delle idee molto belle. E questo dà anche una grande speranza, ma anche una grande luce sull'idea della Next Generation EU, perché questi sono i ragazzi che dovranno affrontare anche quel mondo che sta al di là della terra, ma tutto il tema dell'innovazione, quindi mi sembra che qui ci sia un seme importante dei ragazzi che cominciano a pensare al loro futuro, ecco questo mi sembra l'esercizio più interessante. E' giusto iniziare da scuola, subito? Ma la scuola è tutto, nel senso che questi ragazzi nascono qui, le visioni gliele dà la scuola, gli strumenti per affrontare il futuro gliele dà la scuola, quindi mi sembra che al di là dell'esercizio estetico, di riflessione, va molto più in là, perché li aiutano, o quel poco che possiamo fare anche noi, ad immaginare un futuro, che è l'esercizio più importante che abbiamo davanti. Matteo Salerno, allora, qui ci portate sulla Luna, questa è la vostra idea? Questo è un plastico di una città che abbiamo pensato di realizzare sulla Luna, e i problemi principali erano le temperature che variavano tra meno 140 e 130 gradi, e anche i giorni, perché un giorno lunare dura fino a 28 giorni terrestri, quindi dovevamo capire come gestire questi problemi. Nel fare ciò abbiamo pensato di realizzare un microambiente scavato sulla Luna, quindi un ambiente in cui l'uomo possa gestire l'elettricità e tutte le forme di energia e anche la regolazione dell'ossigeno. Quindi abbiamo pensato di scavare un canyon profondo 50 metri, di cui 25 sono scavati e gli altri 25 sono rialzati direttamente col suolo lunare che è stato estratto. All'interno del canyon possiamo trovare delle strutture che si sviluppano verticalmente, che avranno lo scopo abitativo dei cittadini di questa città, e all'interno delle strutture si potrà muovere sul piano ortogonale con un sistema di ascensori interno agli edifici, mentre sul piano longitudinale attraverso un possibile trenino, una ferrovia che colleghi tutte le strutture che si ripeteranno in sequenza in questo canyon. Per invece arrivare sulla Luna e atterrare e entrare nella città abbiamo pensato a delle piattaforme, delle singole piattaforme, non un'unica grande piattaforma, ma più piccole singole piattaforme da collegare ai singoli edifici, fornite ovviamente di una zona di decontaminazione, perché il problema principale è il suolo lunare che contiene sostanze altamente tossiche, per cui la prima cosa è togliere le tute degli astronauti, decontaminarle, successivamente poi poter entrare nella città in maniera sicura e salvaguardata. Come è stato a lavorare e fare questo progetto, partendo dall'idea, la prima proposta che vi hanno fatto, cosa avete detto? Andiamo sulla Luna? Andiamo sulla Luna, abbiamo detto vediamo che progetti ci sono, abbiamo iniziato subito a capire, ci sono dei progetti della NASA, progetti di architetti, poi la Luna è stata il tema dei grandi filosofi greci, il tema di grandi poeti come Leopardi, quindi c'erano moltissime ispirazioni e noi abbiamo preso un po' da ognuno e abbiamo pensato e progettato, poi ci sono stati mille progetti, questa è la fusione di tantissime idee che ci sono state. Abbiamo fatto due settimane di solo brainstorming e poi abbiamo iniziato un po' a capire come si potesse realizzare questa struttura, anche in relazione ai problemi, perché ovviamente c'erano le idee ma bisognava capire se era possibile attuarli con i problemi della Luna. Sono state settimane lunghissime, specialmente quest'ultima settimana che abbiamo speso tendenzialmente tutte le nostre ore e le nostre energie a realizzare i plastici per questa presentazione, ma è un'esperienza bellissima, bellissima, lavoro di gruppo, poi si lavora sempre con la musica, io dico che lavorando con la musica va sempre bene, quindi musica anni 80 e plastici. Giovanni Sabioni, dove ci portate nello spazio? Allora, oggi vi portiamo su Europa, è un satellite di Giove, uno dei tantissimi satelliti del gigante gassoso. Una delle principali difficoltà di costruire un habitat su Europa sono le radiazioni, dato che Giove è un gigante gassoso che emette molte radiazioni. Quindi per risolvere questo problema, abbiamo sviluppato la nostra colonia basandoci principalmente su un modello di abitazione mobile. Abbiamo infatti costruito queste navi, queste navi che in teoria dovrebbero ancorarsi alla superficie per fare il rifornimento e poi navigare nello spazio che c'è tra la crosta e il fondale roccioso che in teoria, secondo le stime della NASA, è composto più o meno da acqua. Perché abbiamo deciso di sviluppare un'abitazione mobile? L'abitazione mobile è dovuta al fatto che Europa, al contrario della Terra, ha una geologia più dinamica, quindi le disposizioni delle croste possono cambiare, ci possono essere degli enormi iceberg sottomarini che possono spazzare via tutta la nostra colonia, quindi abbiamo deciso di fare un qualcosa di più dinamico che possa adattarsi meglio alla situazione. Abbiamo poi sviluppato una parte della colonia in superficie che è costruita per garantire rifornimenti dalla Terra dato che Europa dista sette anni di viaggio con le tecnologie attuali dalla Terra, quindi è necessario avere comunque un porto spaziale sulla superficie che si è in grado di accogliere più navi possibili per i rifornimenti. Sulla superficie abbiamo costruito questi habitat circolari che, data la bassa gravità sette volte minore di quella della Terra di Europa, sono molto facili da spostare e quindi anche gli habitat di superficie che forniscono da supporto logistico alle colonie inferiori possono essere spostati con facilità per garantire un migliore dinamismo del sistema in totale. Il problema di sopravvivere su un pianeta che sulla superficie c'è almeno vuoto siderale è sicuramente il fabbisogno energetico. Per ovviare a questo problema abbiamo deciso di sfruttare i geyser di Europa che la NASA stima possano sparare acqua fin su nello spazio inserendo delle turbine idroelettriche all'interno dei geyser per generare l'energia idroelettrica e arrivare a una situazione stabile di fabbisogno energetico. Com'è stata l'esperienza a lavorare a questo progetto? Sicuramente non abbiamo saltato neanche una lezione perché è davvero impegnativo. Poi abbiamo colto questa opportunità per imparare a usare uno strumento che da ora sarà fondamentale che è la stampa 3D. Abbiamo imparato ad usarlo dopo molti fallimenti molte stampe buttate via tutti i pomeriggi, anche a volte la sera siamo rimasti qua per sviluppare questo progetto. Poi siamo una squadra, noi rispetto alle altre squadre siamo in più, siamo molti quindi comunque abbiamo avuto l'occasione c'è anche stato il problema di dover organizzare chi fa cosa per garantire che nessuno si annoiasse quindi abbiamo pensato di dare un livello ulteriore di dettaglio facendo più cose e comunque sì, abbiamo dovuto tagliare tutto questo polistirolo da delle lastre enormi quindi anche lì ci siamo stati un bel po' di tempo. Davide Sarti, dove avete immaginato il vostro futuro? Su Titano è un satellite di Saturno e si trova un bel po' lontano dalla Terra e abbiamo pensato di costruire queste torri per appunto provare di avere una colonia su Titano e appunto ci immaginiamo i coloni abitare proprio la cima di queste torri e in realtà Titano è un pianeta pieno di risorse che vanno dagli idrocarburi appunto ci sono questi fiumi di metano ai venti che tirano soprattutto ad alta quota e in realtà è uno dei pianeti più papabili per una colonia spaziale tuttavia si trova molto distante dalla Terra pensate che il tempo medio che si impiega per raggiungerlo dalla Terra è di circa sette anni sola andata. E come è stato il lavoro? Come è nato? Come è venuta l'idea? Come avete lavorato? L'idea è nata da un problema che è a Titano che è quello dell'esondazione dei fiumi di metano e appunto l'idea dell'attore è nata proprio da qui poiché per evitare che la colonia potesse essere danneggiata abbiamo pensato di costruirla appunto verticalmente e poi da qui si è sviluppato tutto il progetto abbiamo pensato questo sistema doppia cupola per garantire l'estrazione dell'acqua dal sottosuolo perché sì, la superficie di Titano è ghiacciata e nel sottosuolo è presente una grande quantità di acqua e dopodiché all'interno della seconda cupola invece come potete vedere vi sono degli alberi o comunque della vegetazione per avere come delle piccole serre. Come è stato fare questo lavoro a scuola? È stato molto stimolante e soprattutto mettere le mani in pasta e quindi provare a costruire questo plastico partendo diciamo dai dati poi dopo pensando concretamente come potesse essere una colonia su Titano e niente, ci siamo molto divertiti ci siamo molto stimolati e noi vediamo l'ora di cominciare il prossimo progetto.